Buongiorno a tutti i telespettatori di Medicina Facile, l'argomento di questa puntata è l'adolescenza, momento cruciale, complesso, delicato della nostra vita, ma è un momento anche meraviglioso ed è un momento, un periodo di scelte importanti che poi possono anche influire e condizionare il proseguo della nostra vita stessa. Ne parliamo con il nostro creditissimo ospite, buongiorno e benvenuto nei nostri studi al professor Marco Sarchiapone. Buongiorno a tutti voi. La vedo sorridente, sta bene? Decisamente sì, grazie. Professor Marco Sarchiapone, psichiatra, psicoterapeuta, Università del Molise, Dipartimento di Medicina e Scienze per la Salute. Professor Ordinario, insegna psichiatria. Insegno psichiatria e sono il professore di psichiatria di questo Ateneo che è un po' recente, ma che da dieci anni a questa parte ha aperto la facoltà di medicina e dunque sono il cattedratico di psichiatria nella facoltà di medicina. È una università giovane questa del Molise. Sì, è un'università abbastanza giovane. Professor Sarchiapone che è anche consulente dell'ONU e dell'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, che incarichi a professore? Sì, per quanto riguarda l'ONU sono il consulente nella componente UNICEF che è quella che si dedica agli adolescenti, ai bambini e sono stato incaricato di svolgere diversi programmi di prevenzione per le condotte autolesive e in particolare quelle suicidate che in alcuni paesi dell'est asiatico, in particolare il Kazakistan, sono molto molto frequenti e per quanto riguarda l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono tra i consulenti per la redazione di linee guida di prevenzione delle condotte suicidari, in particolare ho scritto quelle per la prevenzione delle condotte suicidari negli istituti di pena e sono anche reviewer dell'ultimo World Report on Suicide, il report che ogni 5-6 anni l'Organizzazione Mondiale della Sanità pubblica diffonde sui dati relativi a questo triste fenomeno che è quello del suicidio. Triste fenomeno, ha perfettamente ragione. In questa puntata parleremo di adolescenza e al nostro ospite chiedo subito che cos'è e quanto si sente forte un adolescente? L'adolescenza è forse una delle fasi più belle della vita, bisogna dirlo e al tempo stesso è anche una di quelle più complesse, più delicate perché l'adolescente va incontro a una serie di trasformazioni che classicamente vengono definite come critiche, cioè che avvengono da un momento all'altro, l'adolescente da un momento all'altro scopre di avere un timbro di voce diversa, si accorge dell'insorgenza di una peluria che fino al giorno prima non aveva, scopre, maschietti e femminucce naturalmente, scopre di sentirsi diverso e cominciare a sentire più che mai, più che fino ad allora l'esigenza di sentirsi qualcuno di diverso dagli altri, appartenere ad un gruppo, appartenere ma avere una propria identità. Ed è una questione molto delicata perché è proprio in questa fase della vita noi siamo soliti dire che non c'è più la rete, nel senso che dai bambini si dice quando crescerò, quando crescerò, ma c'è ancora l'adolescenza di mezzo, ma quando si è adolescente si sa che si è prossimi proprio all'adultità, per cui l'adolescente ha bisogno di mettere in atto tutta una serie di comportamenti che lo portino a distinguersi l'uno dall'altro, sentirsi al tempo stesso però di appartenere ad un gruppo che lo identifica e che lo consolida e lo mantiene, di sentirsi in grado di poter fare quello che desidera fare, quello che pian pianino va scoprendo potrà essere la sua professione, le cose che da grandi vorrà fare e soprattutto avere delle conferme attraverso le quali può affermarsi e può essere consapevole che sarà quel che lui pensa di essere. È una fase della vita caratterizzata da un senso di invulnerabilità, si sentono quasi degli Highlander, degli Immortali, ed è un'immagine che colpisce molto e credo renda l'idea, è necessario che l'adolescente si senta così, si senta che può, ha davanti a sé un panorama di cose che può fare che è pressoché infinito, ed è una risposta allo sviluppo che l'adolescente sta compiendo in quel momento. Diamo dei riferimenti temporali ai nostri telespettatori, quando inizia e quando finisce questa fase della vita e si può dire professore che oggi è sempre più precoce? Assolutamente sì, quando inizia e quando finisce, è un dibattito in continua evoluzione perché in realtà le fasi si... Paletti che non vengono spostati. Certo, certo, si comincia a parlare di adolescenza intorno agli 11-12 anni, ci si estende fino ai 19, ma alcuni fino anche ai 21 anni, che è già una fase di giovane, adultità, ci sono fasce, però diciamo che il momento critico per l'adolescente, per critico intendo quello in cui riesce meglio a consapevolizzare cosa gli sta accadendo è quello dei 14 anni, che non è a caso un'età, che è l'età in cui si esce classicamente un po' in tutto il mondo, insomma da un percorso scolastico, in Italia abbiamo la media inferiore, insomma ai 13-14 anni e si entra in un altro, dove si deve ricreare il gruppo, dove non si è ancora individuato, per cui in quel momento sono ancora più delle tavolette di cera, in cui qualunque cosa si imprime resta. Il sesso conta, c'è differenza tra ragazzi e ragazze? Beh, il sesso ha sempre contato nella vita, è ancora di più in questa fase. No, in questo caso per quanto riguarda la fase di sviluppo. Certo, certo, certo. No, no, ma anche a quello mi riferisco proprio, ha sempre contato nella vita. Ci sono delle differenze, soprattutto rispetto alla espressione di quel che è il vissuto degli adolescenti, premesso che non esiste una mente femminile, una mente maschile, ma esistono dei funzionamenti mentali che didatticamente descriviamo come femminili, quali per esempio la capacità di contenere, di sopportare, di tollerare e aspetti mentali cosiddetti maschili che sono più pertinenti all'azione, al produrre, al fare qualcosa, ogni essere umano ha in sé una componente maschile e una componente femminile della mente, che evidentemente nel caso delle ragazze è più sviluppato quello femminile, ma... e quindi in che cosa consiste la differenza negli adolescenti? Che le ragazze, forse sono anche dei luoghi comuni, ma insomma di fatti è così, sono più inclini alla condivisione di elementi intimi, di sentimenti, sono più inclini alla manifestazione, al passaggio, al mostrargli quello che veniva chiamata la teatralità dell'adolescente femminile, mentre i maschietti sono un po' più resti e sono diciamo un po' più come un interruttore che si accende e si spegne, mentre le ragazze hanno un potenziometro che riesce un po' a regolare meglio la loro... Senta, quali sono i principali cambiamenti nelle abitudini e nello stile di vita dell'adolescente? Beh, qualunque genitore o qualunque diciamo persona che vive con gli adolescenti si accorge immediatamente che dall'oggi al domani cambiano gli stili, non si è più il diciamo la cocchetta di mamma o il figlio, il bambino di papà, gli adolescenti tendono ad isolarsi, trascorrono molto più tempo nella camera da soli, sono meno inclini a raccontare quel che è successo durante la giornata e quindi hanno diciamo cominciano ad isolarsi, certo senza raggiungere il paradosso degli kokomori giapponesi, ma comunque tendono un po' ad isolarsi, ma insieme a questi comportamenti purtroppo e anche fortunatamente difficili un po' dirlo, tendono ad assumere quei cosiddetti comportamenti che noi chiamiamo a rischio, cioè comportamenti nei quali consapevolmente o inconsapevolmente comunque si perseguono delle azioni che possono mettere a rischio sia da un punto di vista fisico, psicologico, economico, la propria integrità e quella altrui. Questi sono comportamenti che sono stati studiati, in particolare gli antesignani in questo campo sono sempre stati gli statunitensi che hanno riconosciuto delle categorie cosiddette a rischio principali, ma ce ne sono diverse, come per esempio l'uso di sostanze, l'abuso di alcol, la promiscuità sessuale, la violenza, il tabaggismo e così via. Tutti questi comportamenti a rischio sono dei comportamenti che gli adolescenti devono in qualche modo mettere in atto cum granosalis, come si dice, per poter sperimentare fino a che punto possono spingersi, ma al tempo stesso sono anche dei precursori di quella che poi è la sofferenza mentale in età adulta. Cerco di spiegarmi meglio. Coloro che in età adulta manifestano una patologia psichiatrica, una sofferenza mentale, nella loro anamnesi, nella loro storia, si rinviene sempre almeno uno di questi comportamenti. Ma fortunatamente non vale il contrario, non è che chi ha fatto uso o abuso di sostanze, di alcol o di guida pericolosa, poi svilupperà inevitabilmente. Per cui è un problema molto delicato su come intervenire per evitare la stigmatizzazione, naturalmente, del problema. Quelle da lei citate, quelle sei categorie citate che abbiamo visto nella diapositiva precedente, ma anche in questa, dicevo professore, queste categorie sono tutte a rischio? Assolutamente sì. La frequenza con le quali si manifestano negli adolescenti, o come magari dirò anche tra un pochino, oltre il 50%, e spesso si presentano insieme, è difficile trovare un adolescente per esempio che fa uso di alcol e non fumi, o viceversa. E ovviamente più categorie a rischio sono messe insieme, più probabile è che poi si sviluppi una patologia mentale in età adulta. Ad ogni modo il dato davvero preoccupante è che tutte queste categorie a rischio sono oramai inequivocabilmente nella comunità scientifica riconosciute come i precursori delle condotte suicidarie. Cioè in psichiatria non si muore per depressione, per schizofrenia, per anoressia, si muore per suicidio, cioè il suicidio è l'esito finale, la complicanza più pericolosa di tutte le patologie psichiatriche. E i comportamenti a rischio giocano assolutamente un ruolo importantissimo nel determinismo poi di questa conseguenza in fausta. Si è fatto qualcosa in Italia e in Europa per cercare di migliorare questa situazione che, come ci ha detto lei, si sfocia nel suicidio, ovviamente è gravissima. Assolutamente sì. A partire dal 2005, quando fu organizzata una delle più importanti conferenze sulla salute dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ad Helsinki, è stato stabilito che si sarebbe dovuto destinare una percentuale maggiore del prodotto interno lordo per ogni nazione, avrebbe dovuto destinare per la salute, in particolare per la salute mentale, all'interno della salute mentale per prevenire le condotte suicidarie, soprattutto negli adolescenti. Naturalmente non tutte le nazioni, perché quelle sono state raccomandazioni, non tutte, però da allora fu coniato questo slogan un po' sportivo No health without mental health, non c'è salute se non c'è salute mentale e la comunità europea, nell'ambito del compartimento della ricerca, il cosiddetto settimo programma quadro, ha deciso di destinare una somma importante alle ricerche che avrebbero avuto come interesse proprio la salute mentale, in particolare le condotte suicidarie. Per cui sono stati fatti diversi programmi in Europa, almeno una decina. Io ho partecipato come vice coordinatore italiano a sette di questi e in particolare tre erano destinati agli adolescenti e sono i tre che si vedono anche nella diapositiva. Il primo progetto che noi abbiamo l'abitudine oramai di muoversi per acronimi, acronimi che in qualche modo siano suggestivi, il primo comunque era indirizzato a cercare di rinforzare la potenzialità degli adolescenti, questo Saley, il secondo We Stay, noi ci siamo, era indirizzato a cercare di controllare il fenomeno dell'assenteismo ingiustificato dalle scuole, che è un altro precursore di non solo bullismo e attività violente, ma anche di condotte autolesive. E il terzo, Supreme, ci siamo voluti cimentare con gli strumenti tipici degli adolescenti, cioè i media, e quindi era un programma di prevenzione. Sono tutti programmi che sono stati cofinanziati, perché in parte sono stati finanziati anche dalle università stesse. Dalle università. Sì, e la finalità era quella di dare raccomandazioni ai governi europei, raccomandazioni che più o meno sono state recepite, un po' più, un po' meno. E ho preparato delle altre diapositive a questo proposito? Sì, per dare un'idea di quella, questi studi si sono basati sostanzialmente su un progetto articolato in tre fasi. Una prima valutazione dello stato dell'arte, la fotografia di quella che è la situazione, e questo ha consentito di dare un database alla comunità europea su quale è il reale stato di salute mentale degli adolescenti. Una seconda fase di implementazione di programmi di prevenzione, la vera e propria fase di ricerca, e una terza fase di valutazione dei risultati. Naturalmente sono stati usati dei questionari che hanno esplorato non solo gli stili di condotta di vita, soprattutto quelli a rischio, ma anche tutta una serie di altri elementi, compresa la cosiddetta psicopatologia degli adolescenti. Qui giusto per avere un'idea, perché i dati sono davvero tantissimi, quel che è venuto subito fuori è che sia la componente ansiosa, la componente depressiva, che giocano un ruolo importante, soprattutto nel suicidio, hanno fatto registrare dei valori decisamente molto alti tra gli adolescenti, e anche quelle condizioni di comportamenti tipo sintomi emotivi, come vengono gestiti, il comportamento sociale, prosociale o controsociale, anche lì sono venuti fuori dei dati decisamente significativi, insomma, quanto alla situazione di... Sono studi che hanno riguardato un campione più o meno di 30.000 adolescenti in tutta Europa, è stato creato un consorzio di partner che ha cercato di esplorare la situazione in tutta l'Europa, tenendo conto del criterio geografico, e un altro dato importante che volevo sottolineare è quello relativo alle condotte suicidarie, che forse è nella... eccola qui nella prossima diapositiva. Questi sono i risultati relativi al comportamento suicidario. sulla parte di sinistra sono descritte... noi abbiamo usato ovviamente degli strumenti tecnici, scientifici validati, e nella parte di sinistra si vede quante persone hanno almeno una volta tentato di togliersi la vita, e parliamo di 14 anni. Tentato o pensato? Tentato. Tentato di togliersi la vita, e come vedete più o meno il 6%. Ora bisogna tener conto che il suicidio è considerato in medicina un evento raro, nel senso che rispetto alla malattia cardiovascolare, cancerosa, eccetera, colpisce una popolazione decisamente più contenuta. Però l'ultimo dato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, a cui ho partecipato alla stesura del report, chiarisce con assoluta evidenza che almeno 800.000 persone all'anno, ed è un dato sottostimato perché non arrivano dati da tutto il mondo come è facilmente immaginabile, 800.000 persone all'anno si tolgono la vita, che significa che ogni 40 secondi una persona si toglie la vita. Che è un dato preoccupante, ma se a questo aggiungiamo che per ogni suicidio completo, e di questo stiamo parlando, ci sono almeno 10-20 tentativi di suicidio, questi 800.000 soggetti diventano decisamente molti di più come è. E soprattutto fra gli adolescenti il tentativo di suicidio è molto più frequente. E dunque si esprimono in dati su 100.000, cioè la situazione, per esempio, l'Italia, che è uno dei paesi più protetto da questo punto di vista, fa registrare un tasso di 4 al 6 per 100.000, cioè ogni 100.000 abitanti, i cittadini, 4 o 6 si suicidano in un anno. Mentre la vicina Francia fa registrare 15, l'Austria 18, la Spagna 25 su 100.000, per ragioni legate a contesti sociali decisamente differenti, piuttosto che a elementi di tipo biologico. Ora, per quanto riguarda gli adolescenti, se torniamo per un momento su quella di prima, vediamo che il 5,73%, non per 100.000, ha tentato di togliersi la vita. E' un dato enorme, che se si aggiunge a quello che è mostrato sulla parte destra della diapositiva, cioè se l'adolescente ha seriamente pensato di togliersi la vita nelle ultime due settimane precedenti l'intervista, il dato totale sale a oltre il 14% e non, continuo a dire, per 100.000. E' un dato decisamente importante. Durante questi studi abbiamo naturalmente trovato tantissime cose, ma una in particolare ci terrei a sottolinearla e la vediamo meglio, e riuscirò a spiegarla meglio con la prossima diapositiva. Sì, intanto che drammaticamente questo significa che in pratica, in soldoni, in ogni classe dove mediamente ci sono 20-25 adolescenti, almeno 4 hanno pensato seriamente, e parliamo di 14-15 anni, hanno seriamente pensato di togliersi la vita, e almeno uno l'ha tentata questa eventualità. Ma un dato ancora più interessante, almeno dal mio punto di vista, è quello che viene fuori da una successiva analisi che abbiamo fatto. Ora, questa è un'immagine tratta da un articolo che abbiamo pubblicato qualche anno fa su quella che è attualmente la rivista di psichiatria più impattata, si dice in questo termine un po', in questo neologismo, insomma una delle più importanti, insomma la World Psychiatry Journal. Sulla parte di sinistra abbiamo messo tutti quelli che sono i ragazzi che possono essere considerati non a rischio, rispetto a quei comportamenti di cui parlavamo prima, quelle linee etterosse, quegli istogrammi, più basse sono, più significa che c'è meno sedentarietà, uso di media, uso di sostanze, eccetera, eccetera. Ed ammonta più o meno al 57%. Nella parte centrale ci sono quelli che invece hanno alto indice e dunque sono a rischio e sono più o meno il 13%, ma abbiamo scoperto anche che un certo gruppo che abbiamo definito come invisibile, è dunque il più pericoloso dal mio punto di vista, pur non potendo essere considerato a rischio perché non ha tutti i valori dei comportamenti a rischio elevati, ha comunque tre di questi abbastanza elevati, che sono la sedentarietà, il dormire poco e il passare molto tempo davanti ai media. Ora naturalmente, come dire, perché gli diciamo invisibili? Perché nessuno di noi si sogna di pensare che un ragazzo che dorme parecchio, che fa poca attività fisica, che passa molto tempo a smanettare, come dicono loro oggi, possa essere a rischio. Però quello che abbiamo notato è che quando siamo andati a confrontare i valori, e questo lo si vede forse un po' meglio dalla parte destra della diapositiva, rispetto alla depressione, ansia e soprattutto di azione suicidaria, questi ragazzi appartenenti a questo terzo gruppo hanno fatto registrare gli stessi valori di coloro che appartengono al gruppo a rischio. Ora perché dico che questo è, a mio avviso, importante? Perché ovviamente è molto più facile intervenire su qualcosa che conosciamo, che sappiamo, che si sa, si vede, si misura, ma è decisamente più difficile intervenire su questo. E in qualche modo questi rendono conto di quella cosiddetta quota di persone che a volte si diceva, ma sa, non c'era nulla che lo lasciava pensare, erano ragazzi modello, erano, e quindi poi succede anche questo. Le chiedo, come si può intervenire? Come possono, devono comportarsi i genitori, il mondo della scuola in queste situazioni? Intanto, quanto all'intervento, quel che siamo stati fortunati, bisogna anche usare questo termine per, oltre che una certa competenza, ma insomma fortunati, è nell'individuare un programma di prevenzione fra i tre che abbiamo messo in pista in questi progetti, che ha dato dei risultati davvero eccezionali e che si basa sostanzialmente su una campagna di awareness, di consapevolezza con gli adolescenti, perché ci siamo accolti che gli adolescenti in realtà non sanno assolutamente nulla di quella che è la salute mentale. Un adolescente che sente il cuore impazzire perché la ragazzina lo ha appena lasciato e non sa che cosa gli sta succedendo, è spaventatissimo, non sa che è una fase transitoria. Un adolescente che vede un rossore in viso perché l'amico gli ha detto qualcosa e non sa a che cosa corrisponde, non sa a che cos'è. Quindi semplicemente insegnare loro, spiegare loro che cosa gli sta succedendo ha avuto un successo enorme, tant'è che questo gruppo di adolescenti che è andato sotto questo programma ha fatto registrare il miglior successo in campo di prevenzione delle condotte suicidari. Tanto che in questa diapositiva si vede la rivista più famosa nel mondo, la Bibbia della medicina, cioè The Lancet Medicine, ha immediatamente pubblicato il giorno dopo che abbiamo avuto questi risultati che hanno consentito di ridurre del 50% il rischio di tentativo di suicidio ad un anno di distanza dall'intervento e di ridurre più o meno del 47-48% l'ideazione suicidaria. Ed è qualcosa di assolutamente straordinario, tanto che The Lancet ci ha fatto la... Giustamente dato spazio a questo vostro lavoro. Abbiamo un'ultima diapositiva che le chiedo di... Che era un po' per tornare alla domanda che mi faceva prima rispetto alla famiglia. Perché l'Italia ha questo basso indice? Scientificamente parlando per due motivi. Primo per la componente, ancora come è fatta la struttura familiare in Italia e secondo per il ruolo della Chiesa. La religione svolge un ruolo protettivo molto importante in questo ambito. In questa diapositiva, è un po' complessa, mi rendo conto, ma spero di riuscire a spiegarmi. Questi sono dati che abbiamo preso dal secondo studio che avevo citato, cioè We Stay, che era più sul stare a scuola, bullismo, eccetera. E quello che è venuto fuori è che tutti i ragazzi che hanno una buona componente familiare, cioè dove la famiglia è attenta, ma in modo giusto, né iperprotettiva, né ipoprotettiva, ma comunque presente, danno supporto di fronte a sintomi, a situazioni che possono generare ansia, a depressione e che poi portano alla condotta suicidaria, sono assolutamente protetti e sono rappresentati da quella barra più o meno orizzontale. Cioè, nonostante ci sia maggiore la presenza della componente familiare, minore è il rischio di... E la parte destra della diapositiva recita più o meno lo stesso per quanto riguarda la depressione. Quindi il ruolo familiare è decisamente molto importante. È decisamente importante. Siamo quasi in chiusura, quindi le chiedo veramente risposte sintetiche. Nel modello da lei proposto, questi sono incontri di gruppo? Sì, no? Sì, sono incontri che funzionano soltanto laddove si fanno con la classe degli studenti, senza nessun docente o personale conosciuto allo studente. Sono incontri che vanno condotti da personale formato, istruito, ma molto giovane, perché un adolescente accetta più facilmente da un pari che da un adulto. Sicuramente. Si articolano in tre incontri molto semplici, di un'ora, un'ora e mezza ciascuno, dove c'è una introduzione per conoscersi un po'. Ci sono poi dei momenti di giochi di ruolo in cui si mimano, si simulano le varie situazioni e c'è un terzo incontro, anche quello di un'ora, un'ora e mezza, in cui si discute insieme cosa ne pensate, cosa ne... ecco, questo, semplicemente questo, è stato sufficiente a ridurre così drasticamente il numero dei studenti. E i risultati, mi sembra di capire, sono molto significativi. Molto significativi. Fortunatamente, oramai molte istituzioni nel mondo, ma anche in Italia, in particolare a Pescara, hanno adottato, stanno le scuole adottando questo tipo di programma di prevenzione e sono decisamente contento da un punto di vista professionale. Perché il vero problema della medicina, a mio modo di vedere, è che dal momento in cui si scopre l'efficacia di un trattamento al momento in cui questo trattamento viene messo a disposizione del cittadino, che è il fine ultimo della ricerca poi, passano anni, anni. E avere la possibilità di uno strumento che è fortemente migliorativo, poterlo usare il più rapidamente possibile, questo mi imbarazza un po', ma mi fa sentire un po' meglio. E speriamo che magari questa trasmissione sia servita anche a veicolare questo messaggio verso un maggior numero di scuole e di utenti, magari ce lo dirà in un'altra occasione. Grazie al professor Marchio Sarchiapone, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Psichiatra, psicoterapeuta, Università del Molise, Dipartimento di Medicina e Scienze per la Salute. Grazie a Francesco Specchiulli in regia, Andrea Di Fabio in post-produzione. Grazie a voi tre spettatori per l'attenzione. Ci vediamo la prossima settimana, naturalmente parleremo di un altro argomento. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti.